La settimana scorsa i numeri sono stati molto alti, le chiamate logicamente altrettante, la gente che è rimasta a casa con febbre, mal di destra, dolore muscolare molto alta, quindi speriamo che sia in fase di calo o almeno di stallo. Si vede la presenza di tanti virus, non c'è solo quello di influenza, c'è anche quello gastrointestinale, il covid, diciamo che la situazione è complicata un po' da questa contemporaneità. Ci sono varie forme, c'è anche purtroppo il covid, ecco mi piace segnalare che in ASL4 un gruppo di medici, anzi quasi tutti, stanno portando avanti uno studio, un protocollo di comportamento anche per evitare spesso di scrivere antibiotici in eccesso, che consiste nel fare il doppio tampone sia per ricercare il covid che per l'influenza e poi un riscontro attraverso la goccia del sangue della proteina cereattiva per valutare se c'è in atto anche eventualmente un'infezione batterica e in base a questi tre parametri decidere se dare antibiotico oppure no. Lo scopo dello studio è quello di valutare se effettivamente alcuni strumenti in mano al medico medico generale dà la possibilità effettivamente di discernere meglio qual è la causa della malattia ed eventualmente decidere la terapia più adeguata. Come è andata la campagna di vaccinazione? C'è ancora tempo per vaccinarsi? Non è ancora tardi? È importante farlo? Sì, assolutamente, ancora è giusto vaccinarsi per chi non l'ha ancora fatto, perché comunque nel giro di una settimana e dieci giorni il vaccino dà protezione, quindi ancora non sappiamo fino a quando il virus circolerà, anche se pare che ci sia un calo della circolazione, i medici di famiglia e i medici di medicina generale hanno partecipato alla campagna di vaccinazione, purtroppo non abbiamo avuto sempre il numero di vaccini che avremmo voluto avere. Questo è avvenuto perché c'erano poche dosi? È cambiato qualcosa? Perché purtroppo, io non mi stanco mai di dirlo, a volte la programmazione nell'acquisto delle dosi non avviene mai in tempi utili. Non bisogna aspettare novembre per decidere quanti dosi darà ogni medico, ma bisognerebbe programmare in base al numero di pazienti ultra sessantenni, in base al numero dei pazienti con patologie croniche, chiedere a ogni medico quanti vaccini pensa di poter fare e dargli la possibilità di soffrire di questo numero per avere una maggior disponibilità e quindi essere più influenti nei confronti dei propri assistiti.